Buonasera a tutti i telespettatori, siamo a Palazzo Trissino nella sala giunta con il sindaco e presidente della provincia di Vicenza Francesco Rucco, siamo a distanza Droplet, come vedete lui è microfonato, anche io sono con un microfono a mano per cui siamo alla distanza corretta con la mascherina che raccomandiamo a tutti di utilizzare per cautela, soprattutto verso quella parte di popolazione che è più fragile. Facciamo il punto di questa giornata anche questa sera. Sindaco, cominciamo dall'aumento dei contagi, anche a Vicenza c'è stato un aumento, è stato segnato però in tutta la regione Veneto, siamo oltre i 1500 casi. Sì, l'aumento c'è stato, le sale di terapia intensiva hanno ancora dei posti disponibili, è chiaro che con l'aumento dei casi è probabile che si vada a saturazione anche a Vicenza, quindi è importante fare prevenzione, quindi avere quel comportamento responsabile per ogni cittadino di uscire il meno possibile se non per strette necessità. Intanto è uscita un'ordinanza regionale firmata dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che invita i comuni ad attivarsi per dare sì il servizio di trasporto pubblico ma solo ai livelli essenziali. Sì, in ossequio appunto all'ordinanza regionale abbiamo interloquito con SVT, provincia e comune, per ridurre al minimo i servizi di trasporto pubblico locale e quindi verranno messe penso in congedo, in ferie, molti autisti per far sì che appunto poi possano rientrare quando si tornerà alla normalità. E intanto ci avviciniamo a questo weekend, l'ultimo weekend non ci siamo comportati tutti benissimo, abbiamo visto alcuni assembramenti soprattutto di chi con lo scuso di andare a fare la passeggiata poi in realtà incontrava amici e parenti. Ecco, credo che sia il caso di lanciare un appello a tutti i vicentini. Sì, molto chiaro, siamo ancora in fase emergenziale, siamo ancora in fase di picco, quindi i casi stanno aumentando. Per bloccare e contenere questo fenomeno bisogna stare a casa anche nel fine settimana, quindi le passeggiate anche se consentite devono essere ridotte e solo se strettamente necessarie. Stiamo controllando anche gli accessi agli alimentari dei centri commerciali e supermercati proprio per contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti. Quindi su questo non ci sarà più tolleranza, abbiamo anche ieri, siamo intervenuti presso un negozio etnico che non rispettava il provvedimento e quindi si andrà verso la sospensione dell'attività, oltre che la denuncia penale. Quindi da questo punto di vista tolleranza zero nelle prossime ore e varrà anche per i cittadini. Lei nel fine settimana sta a casa? Assolutamente sì, starò con la mia famiglia, con le mie bambine, quindi sono contento anche di starci. Bene, allora fate come fa il presidente della provincia di Vicenza, il sindaco di Vicenza Francesco Lucco, state a casa. Direi che questo è il consiglio migliore per proteggere anche i nostri cari. Direi che da Vicenza, ringrazio Francesco Lucco, è tutto, la linea può tornare allo studio. Direi che da Vicenza, ringrazio Francesco Lucco, è tutto, la linea può tornare allo studio.